187 metri scalati in 45 minuti è stata l'impresa dello Spider-Man francese Alain Robert sulla parete dell'edificio della Total nel quartiere finanziario ed economico parigino della Défense. 53 anni Robert si è già inerpicato su diversi grattacieli e monumenti in giro per il mondo, fra i quali la Tour Eiffel nella capitale francese.